E' nuova, me l'ha data il mio pusher, si chiama Dov'è casa mia. Ehi ragazzi, ho un piccolo problema. Che ti prende? Dov'è casa mia? Ed, lei poteva essere speciale, ma non ha fatto niente di positivo. Ecco che succede ai coglioni che si allenano! Ha avuto un effetto positivo su di me. E' veramente un brutto momento, devo andare a casa mia. Cazzate quel fantasma! Davvero? Chi è stato? Oh, porca paletta. Signore, le chiedo scusa per mio figlio, ha cinque anni, cattivo, seduto e finisce le crocchette di pesce. Crocchette! Ok, pronto? In bomba amici per la vita. Hai visto che lancio? Ma che cazzo? Ehi, attento con quel coso, eh? Ma posto, non è cari... Cazzo, mi sono giocato il naso! Cazzo, mi sono giocato il nostro obiettivo. Grazie a tutti